Cosa succede se una donna affetta endometriosi dimentica di prendere la pillola? L'assunzione della pillola contraccettiva nei pazienti affetti dalla malattia viene spesso prescritta per ridurre i sintomi della malattia. Infatti l'assunzione di questo tipo di prodotto ovviamente non cura la malattia, non riduce la malattia, ma al limite riduce soltanto la funzione di questa malattia, cioè la produzione del sangue che l'endometriosi normalmente compie all'interno dell'organismo femminile. Ovviamente dimenticandosi o non prendendo gli ormoni quando si è in corso di terapia contraccettiva, dà come sintomo principale quello di un anticipo del ciclo mestruale. Quindi dopo due o tre giorni che non si prendono queste medicine, il ciclo mestruale ritorna anche se non è il momento in cui dovrebbe ritornare. Quindi in realtà nulla succede a livello della malattia, ma è soltanto un piccolo disturbo che si verifica con l'anticipo del ciclo.